Settembre, tempo di vendemmia nel Chianti, dopo una stagione iniziata con una gelata primaverile, l'andamento stagionale ha vissuto un sostanziale equilibrio con una produzione che si annuncia leggermente ridotta, ma di ottima qualità. L'estate è stata molto bella, asciutta, per fortuna c'erano state piogge intense in primavera che hanno costruito una buona riserva idrica, quindi le vitri non hanno sofferto più del dovuto. Siamo probabilmente agli inizi della vendemmia, ma le uve si presentano molto molto belle, estremamente sane, perché uno dei vantaggi di quest'annata è che non c'è stata assolutamente pressione di pironosporo o di oidio, quindi le malattie tipiche, le malattie fungine della vita non si sono viste. I cambiamenti climatici che ormai stiamo vivendo stanno mettendo a dura prova anche i viticoltori nel Chianti Classico, impegnati in soluzioni agronomiche efficaci per il contrasto di questo impatto avverso. Sto parlando per esempio dell'inerbimento che ormai è diventata una pratica molto diffusa in Chianti Classico e quella serve tantissimo per ridurre l'evapotraspirazione di acqua dal terreno e quindi per mantenere una maggiore freschezza, una maggiore umidità alle radici, fondamentale per non causare stress idrici alle piante. Oppure anche la gestione della chioma. Io ricordo fino a 20 anni fa eravamo tutti nel periodo che precede la vendemmia a togliere foglie, a scoprire l'uva, invece adesso la manteniamo ben riparata dal sole perché sappiamo che potrebbe causare scottature o appassimenti.